Signori treni, ben ritrovati qui su youtube, oggi andremo a vedere dei calci d'angolo veramente devastanti Considerate che battendolo così segnerete la maggior parte delle volte, ovviamente non tutte perché tutte è impossibile, mi sembra più che ovvio Quindi non dimo troppe stronzate, vi lascio al video e dagli cazzo, follow RAR Fabione che arriveranno pure le punizioni Vavos! Allora, analizziamo questo calcio d'angolo, questo che vedete qui è il primo metodo, ma in questo video ve ne darò due, quindi dagli cazzo Qui siamo con Philip Foden e guardate bene questo calcio d'angolo, allora lo sblocco, miro esattamente il pallino del dischetto del calcio di rigore Premo circa 3 tacche, cross in mezzo e il giocatore in mezzo all'area di rigore è completamente solo Ovviamente da lì deve segnare, se è omagna, lo sapete, bestemmie, piate il calendario, ci stanno tanti bei nomi e li bestemmiate tutti Ma andiamo a vedere un altro calcio d'angolo Analizziamo quest'altro calcio d'angolo, sempre stessa cosa, miro esattamente il dischetto del calcio di rigore Circa 3 tacche, 3 tacche un po' a carico, cross in mezzo ed ecco il gol di Haaland Anche a questo giro nessun effetto alla palla e il giocatore si ritrova ancora una volta all'interno dell'area piccola E da là deve da segnare, come abbiamo detto, deve da segnare, non ce stanno tanti che tengono Andiamo a vedere un altro esempio Ecco qui un altro esempio, a suo giro stiamo col magico Julian Alvarez Philippe Foden ci aveva pure rotto gli coglioni, ha dissatuta Miro sempre lì, zero effetto alla palla con lo standard A suo giro vediamo quanto carico, ma circa 3 tacche, 3 tacche un po' regà, è quello là sempre Palla e mezzo e Haaland si ritrova bello solo ancora una volta nell'area piccola Quindi questo è il primo metodo, a mio avviso è quello più efficace, è veramente molto forte E vedrete che ci segnerete tanti tanti gol Poi ovviamente fatemelo sapere nei commenti, se no Fabione che cazzo non sa se voi ci segnate E adesso andiamo a vedere l'altro tipo di calcio d'angolo Perché vi do due opzioni, dite ma se la prima funziona bene, che cazzo ce ne frega a noi da la seconda No, c'è un motivo, perché se il vostro avversario fa uscire il portiere A quel punto non potete più fare quel tipo di calcio d'angolo Perché la tirate lì nell'area piccola più o meno dove accade Se c'è star portiere regà si attaccamo tutti al cazzo Quindi bisogna trovare un'altra soluzione Così che quando l'avversario fa uscire il portiere sappiano del culo lo stesso Ve la faccio vedere subito E adesso analizziamo questo calcio d'angolo Sempre Manchester City, chiamate il giocatore con R1 Rientrate leggermente, cross in mezzo al massimo che potete caricare E vi trovate ancora una volta il giocatore libero all'interno dell'area piccola In quel caso il portiere se anche era uscito sarebbe comunque rientrato in porta Quindi vedete sto peso, sto grosso di torculo del portiere Ma andiamo a vedere altri esempi, almeno capite anche meglio Eccolo qui l'altro esempio Sempre Manchester City che ci ha rotto i coglioni Sempre Krilic, rientra, cross al massimo E il giocatore sul secondo palo ancora una volta sta solo Per me regà questi sono i due metodi più devastanti Per segnare sul calcio d'angolo Quando lui fa uscire il portiere Aspettate vi rimetto pure il video trick e track Quando lui fa uscire il portiere E quando non lo fa uscire Provateli perché a mio avviso so i migliori Ci sarebbe anche il metro per segnare direttamente quando fanno uscire il portiere Però è più complesso Io vi consiglio più quello Chiamate il giocatore Crossate in mezzo E andare sul sicuro Ed eccoci qua ritornati a noi Io ragazzi belli Spero che questi video vi stanno aiutando Ne ho caricati molti quest'anno Ma ne continuerò a caricare tanti altri E vi dico subito che il prossimo sarà sui calci di punizione Quindi ascoltate a me Vi imparate a tirare i calci d'angolo Vi imparate a tirare i calci di punizione Vi imparate a giocare Come cazzo fare poi a perdere? C'è lo script ragazzi attaccano al cazzo Quando c'è lo script non si può fare niente Ci vediamo al prossimo video E come vi dico sempre Dagli cazzo a treni E Non ne va a piangere il culo Ciao belli